Come ho detto prima, io voterò contro questa mozione, non solo sarebbe stato un errore accorparla con una risoluzione perché avremmo mischiato due cose diverse, ma io sono proprio profondamente contrario a questa mozione, così come sono stato profondamente contrario a quello che ha fatto il Parlamento europeo, che non vuol dire essere contrari ai totalitarismi, sono due cose diverse, si può essere contrario ai totalitarismi, io sono contro ogni totalitarismo e pregherei di non parlare di totalitarismi di sinistra e di destra, ci sono totalitarismi stalinismi basati sull'ideologia comunista, una distorsione dell'ideologia comunista e ci sono stati i totalitarismi fascisti, nulla a che a vedere con la dicotomia tra sinistra e destra. Ci ho detto, l'atto del Parlamento europeo, così come questa mozione, fanno un errore madornale, cioè partono da una giusta condanna ai totalitarismi mischiando delle cose molto diverse, un'analisi storica della seconda guerra mondiale, tra l'altro compiendo delle cose che non sono assunte dal punto di vista storico, l'ho detto prima, che la seconda guerra mondiale sia originata dall'accordo Ribbentrop-Molotov è funzionale ad una visione della storia, che io non condivido, io credo che la seconda guerra mondiale sia nata dall'invasione di Hitler della Polonia, così come abbiamo studiato a scuola, ovviamente fa comodo quella lettura perché vuole arrivare, alcune cose sono persino provocatorie perché chiedere che il 25 maggio, che è l'anniversario della morte di colui che ha liberato Auschwitz, sia proclamato giornata internazionale della lotta degli eroi contro tutti i totalitarismi, lo ritengo una cosa sbagliata, lo ritengo una cosa sbagliata, quando noi qui facciamo la giornata della memoria, facciamo la giornata della memoria, poi facciamo anche la giornata quella sulle foibe e io sono il primo a dire, ma separiamo le cose come è giusto che sia e in questa fase storica che vede, come ho documentato prima, un aumento forte dei reati a carattere razzista, antisemita e xenofobo, mentre ritengo piuttosto difficile che ci siano oggi dei reati a base stalinista, perché mi dovete, trovate un caso in cui ci sia stato un atto di violenza a base stalinista, che vuol dire, non ha alcun significato, ci sono invece dei reati a base razzista xenofoba contro gli ebrei, contro i neri, contro le persone diverse e quelle hanno una base per cui oggi, oggi in questa situazione grave, quello che ha fatto il Parlamento europeo è un atto grave e che secondo me è molto grave, molto grave, quindi non c'ho il